A che serve vivere se non c'è il coraggio di lottare? Le cose che non si sanno non sono. La sicurezza del potere si fonda sull'insicurezza dei cittadini. L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, ma solo incoscienza. Non si arriverà mai a niente di perfetto, di giusto e di affatto libero, ma occorre vivere e lottare come se si fosse convinti di arrivarci.